Sono Marcello, ho 49 anni, faccio uno psicanalista e sono depresso. La Mastrigna che c'è dovete dire? Non potrà più seguirti nel vostro percorso di cura. Dottore, io la amo. Nel giro di tre mesi sarò completamente cieco. Ci stanno un sacco di ciecati che hanno fatto delle cose fantastiche. E tu venerà sordo. Noi siamo qua per aiutarla. Dovrebbe lasciarsi andare! Comincia a guardare le cose in maniera un po' diversa. Claudio Bisio, Rocco Papaleo, Marco Giallini. Confusi e felici. Questa sera, 21 e 25, Rai 3.